buongiorno ragazzi eccoci in cucina con mao facciamo un po di triglie ne risoliamo lì col pomodoro e prezzemolo vediamo un po come mettere le pentole qui facciamo riscaldare un po d'olio cipolla rossa in tagliere forse iniziamo parliamo una cipolla mettiamo allo solare vieni a farci un sughetto di pomodoro con cipolle aglio semplice e semplice diamo una lavatina di cipolle qui l'olio si riscalda a pezzettoni così non possiamo stare lì a perdere tempo facciamo rosolare un attimino un po' più alto quindi quelle già pulite squamate e le belle male mi raccomando il suo ok mettiamo 3 cipolle 6 cipolle un po' più alto mettiamo in questo modo mettiamo un po' di pepe, un po' di pepe, un po' di pepe. 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 pepe. Un po' di pepe. Un po' di pepe. pepe. E via. Un po' di pepe. Vi presemmolo. ecco qua io ce l'ho congelato e un po e facciamo cuocere un bel sughettino e insieme adesso mettere le triglie qua a soffrire ecco qua facciamo un piano facciamo un paio di triglie ragazzi faccio fare questo momento qui mescoliamo la nostra salsa e la facciamo un filiale ecco qua faccio un po' di aglio in polvere un po' di aglio in polvere un po' di pincere ecco qua un pochino d'acqua che si e via e ai ragazzi tomato sauce, parsley onions with anchovies salt 1 onion and capers and we cook the fish here for a couple of minutes e job is done and I have a mini like this not but I give an onion giratina fate più in piano ora che un attrezzo non ci avvengiamo ecco un pochino facciamo andare bene la salsa piano alta si cambia di qua abbiamo messo pomodolini piccolini pomodolini c'è di fresco tagliate a metà possibilmente c'è il tomato stress cacchina c'è più caldo vita vuota piccoli scutti messi così lo abbastanza pensati siamo qua buongiorno Pino benvenuto facciamo le trigliette col pomodoro ho cucinato il pomodoro separatamente per fargli vedere e velocizzare la ricerca con le triglie facciamo il pomodoro abbiamo quasi finito vediamo che un minutino e due ecco qua prestati i pomodorini ecco patriglie pomodoro ghiacciughe pomodorini semplici semplici c'è una bella mangiata tanto peperoncino ragazzi questo è tutto tanto 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 ecco qua faccio vedere tutte le versate la salsa sulle mettriglie diamine ancora un minuto forse che ci sia che ci sia Siamo quasi, facciamo asciugare ancora un pochino il sughetto. Ecco, adesso, pian piano, adesso siamo, facciamo asciugare, facciamo asciugare. Siamo, facciamo asciugare, facciamo asciugare, facciamo asciugare. Siamo, facciamo asciugare, facciamo asciugare. E facciamo asciugare, facciamo asciugare, facciamo asciugare. Un'altra parte Electronic Number luogo la Mojater. and we have got red mulets in the tomato sauce, top class. Then we chop the flame, let it cool down for 5-10 minutes. No more, enjoy. Stop done. Ok, grazie a tutti ragazzi, condividete il video, tanti like, buona giornata a tutti. Ciao da Mauro.